Oggi parliamo di interrogative indirette. Come al solito partiamo dalle parole. Interrogativo è facile, ti fa venire in mente subito una domanda. Però attenzione perché interrogativa indiretta. Allora qual è la differenza con una domanda? Andiamo a vederlo subito. Luca mi ha chiesto che ore sono? Bene, io qui ho l'esempio di una domanda, di una domanda diretta. Luca mi ha chiesto. Questa è una proposizione. Che ore sono? Questa è un'altra proposizione ed è una domanda perché c'è proprio il punto di domanda. Quindi questa è una domanda diretta. Guardiamo la frase sotto. Luca mi ha chiesto che ore sono? Dal punto di vista del significato queste due frasi sono assolutamente identiche. Però attenzione, se noi andiamo a fare l'analisi del periodo, Luca mi ha chiesto che ore sono? Anche qui abbiamo due proposizioni, però qua sopra abbiamo due proposizioni indipendenti. Questa è una proposizione indipendente, ma anche questa è una proposizione indipendente è una proposizione indipendente. Invece passiamo alla seconda. Luca mi ha chiesto. È una proposizione principale. Le due sono collegate dal che. Questa è una subordinata di primo grado perché dipende dalla principale. E osserviamo attentamente. Riporta esattamente la stessa domanda, ma senza il punto di domanda. Ecco che abbiamo una interrogativa indiretta, cioè espressa senza riportare le parole esatte della domanda e senza avere il punto di domanda alla fine. Quindi la proposizione interrogativa esprime comunque una domanda, ma in forma indiretta. Ci siamo? Come faccio a riconoscere una interrogativa indiretta? Prendiamo un altro esempio. Non so che scarpe metterò. Facciamo la nostra analisi. Non so è la principale. Che scarpe metterò è una subordinata. Questa è una subordinata di primo grado che esprime una domanda in modo indiretta. Io potrei tranquillamente scriverla in questo modo. Che scarpe metterò? Non lo so. Quindi interrogativa indiretta. Come l'abbiamo riconosciuta? L'abbiamo riconosciuta perché abbiamo visto che possiamo trasformarla in una domanda diretta. Proviamo a fare lo stesso lavoro con l'esempio che c'è sotto. So che metterò le scarpe nuove. So è una proposizione. Che metterò le scarpe nuove è un'altra proposizione. direi proprio di no. Direi proprio di no perché questa non è un'interrogativa indiretta ma al contrario è una. oggettiva. Non posso trasformarla in una domanda. So che cosa che metterò le scarpe nuove. Quindi un modo per avere la prova che quella che ho davanti è un'interrogativa indiretta è provare a trasformarla in una domanda diretta. Ma ovviamente ci sono degli altri modi e ancora una volta per riconoscere la proposizione che stiamo studiando bisogna andare a vedere i predicati. Si parte sempre comunque dal verbo. Le interrogative indiretta dipendono da verbi interrogativi. Cos'è un verbo interrogativo? I verbi interrogativi sono quei verbi che esprimono una domanda. Quindi chiedere, domandare, domandare, interrogare. Mi ha chiesto di fargli un favore. Il verbo chiedere è un verbo interrogativo. Mi ha chiesto, principale, di fargli un favore. Quindi questa è una interrogativa indiretta. Oppure le interrogative indirette possono dipendere dai verbi dichiarativi. I verbi dichiarativi sono verbi come spiegare, dire, pensare, sapere, conoscere, indovinare. Indovina cosa ho comprato. Indovina, principale, cosa ho comprato. Cosa ho comprato? Indovina. Quindi questa è una interrogativa indiretta. Ma questa proposizione può dipendere anche da verbi, nomi o aggettivi che esprimono un dubbio. Luca è incerto su cosa fare? Luca è incerto è la principale. Incerto è un aggettivo che esprime dubbio. Cosa fare? Luca è incerto. Vedi che anche questa è una interrogativa indiretta. Quindi, come al solito, due cose. Primo, partire dai verbi. Secondo, oimè, i verbi però bisogna conoscerli. altrimenti rimaniamo nell'errore. Quello che può accadere è di confondere l'interrogativa con altre proposizioni che abbiamo visto. Ad esempio, la oggettiva oppure la dichiarativa. Guardiamo insieme come fare per evitare questo errore. Pino ha detto che ci raggiungerà in pizzeria. Allora, partiamo subito dall'individuazione dei verbi. Ha detto, raggiungerà due predicati, due proposizioni. La nostra principale è Pino ha detto e questa è una subordinata, sicuramente una subordinata di primo grado. Benissimo. Pino ha detto. Cosa ci manca qua? Ci manca un complemento oggetto. Che cosa ha detto Pino? Pino ha detto che ci raggiungerà in pizzeria. Possiamo trasformarla in una domanda questa? Direi proprio di no. Infatti, la funzione di questa proposizione è quella di fare da complemento oggetto al predicato che c'è nella sua reggente. E infatti questa è una subordinata di primo grado oggettiva. Esplicita perché il verbo è all'indicativo, perché c'è il che che le tiene insieme la congiunzione. Quindi questa è un'oggettiva. Passiamo al secondo esempio. Pino mi ha chiesto il favore di tenergli il posto. Anche qui ho due predicati. Ha chiesto tenere. Quindi avrò due proposizioni. Ma attenzione bene. Facciamo l'analisi. Pino mi ha chiesto il favore. È sicuramente la principale. Benissimo. Quindi questa che dipende dalla principale è sicuramente una subordinata di primo grado. E possiamo già dire che è implicita perché questo è un verbo all'infinito. Infatti qui non abbiamo una congiunzione ma abbiamo la preposizione di che spesso regge l'infinito. Se osserviamo attentamente la principale possiamo già subito dire che questa non può essere un'oggettiva. Perché? Perché il complemento oggetto io ce l'ho già qui. Pino che è il soggetto di questa proposizione mi ha chiesto che cosa il favore. Io ho già il complemento oggetto. Allora io so che se il complemento oggetto è contenuto nella proposizione non ho bisogno di un'altra proposizione che svolge il ruolo di complemento oggetto. Poi osservo attentamente questa proposizione e che cosa vedo? Vedo che la subordinata sta chiarendo che favore mi ha chiesto Pino. Pino mi ha chiesto il favore, va bene, ma quale favore? Di che tipo? Ed ecco che allora questa subordinata è una dichiarativa. Ti ricordi che le dichiarative svolgono proprio questa funzione, dichiarire un elemento, un nome, un pronome, in questo caso un nome, che è contenuto nella propria reggente. Facciamo la controprova. Posso trasformarla in una domanda? Direi proprio di no. Passiamo all'ultima frase. Pino mi ha chiesto se gli faccio il favore di tenergli il posto. Attenzione io qui ho tre predicati. Ha chiesto, faccio, tenergli e quindi avrò tre proposizioni. Analizziamole. Pino mi ha chiesto... è sicuramente la principale. Pino mi ha chiesto se gli faccio il favore. Gli faccio il favore? Pino me lo ha chiesto. In questo caso il verbo chiedere regge proprio una subordinata di primo grado esplicita interrogativa indiretta. Che dipende dal verbo chiedere e che può essere trasformata in una domanda. Gli faccio il favore? Pino me l'ha chiesto. Quindi, interrogativa indiretta. Di tenergli il posto sarà una subordinata di secondo grado, implicita, e sarà una dichiarativa. Il favore? Di tenergli il posto. Quale favore? Mi ha chiesto. Quale favore gli faccio? Di tenergli il posto. Questa è la nostra interrogativa indiretta. Cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato intanto che cos'è un'interrogativa indiretta. Ma soprattutto abbiamo imparato come si fa a distinguerla dalle oggettive e dalle dichiarative. Con questo ti auguro buon lavoro e ti aspetto alla prossima.